Hello ragazzi salve a tutti bentornati con questa nuova parte su God of War Ascension Anche la scorsa parte non abbiamo fatto granché Nel senso che la scalata della statua di Apollo continua E' quasi un'impresa arrivare in cima però siamo arrivati almeno nella stanza di Archimede Dove lui era lì che riposava beatamente sopra il suo tavolo Un cenerito tipo scheletrico Credo sia morto Ma andiamo avanti che oggi stranamente si mena Io voglio accendere la lanterna in un qualche modo C'è il focalaio lì Se si può Cioè sei lì un attimo Fornace sottostante spenta e fredda Ciao Vedete che mi da dell'exp E l'ultimo occhio Si gode Abbiamo tutto Ora mi serve solo un sacco di exp per Sono scintille Serve solo un sacco di exp per potenziare la roba Proviamo a fare una cosa Porta fuori Quanto stiamo di vita è tutto? Ingegno Aspetta però devo No 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 Che succede? Ma l'ho fatta solo? Aspetta un attimo Perché si è spento? Voglio vedere se questo qua è un coso per la cenere Noi prima lì abbiamo avvicinato quel pezzo Vero? Voglio vedere se Mi ricarica la cenere No Ok ma questo pezzo invece cosa dovrebbe servire? Questo è un ascensore Perché mi diceva di andar lì dentro? Io sono convinto che dobbiamo portarlo dall'altra parte Con quelle scintille Funzionava Si era acceso Giuro L'ho visto L'ho visto con i miei occhi Cioè dovevo usare un roba ora in qualche modo Ma non capisco come Oh così Così Ok Ora Lo riaccendo Però dura poco A meno che non posso riaccenderlo di là Aspetta un attimo Se io posso arrivare qua Riaccenderlo Eh vedi che si gode però Eh certo Abbiamo riacceso quello Quello che inizia a bollire Cade Sì vabbè adesso non penso vada così veloce Arriva lì Cosa ci metto qua? Cosa ci metto qua? Uno stampo Eh aspetta Ma se la tolgo? Ah no Non si spegne Interesting Proviamo a buttarcene altro Mi sa che lì c'è un pezzo Qui Non so che ho attivato Ti accendi? Le fiamme sono troppo basse Per raggiungere il carbone in alto E che vo' da me? Le fiamme sono basse Per il carbone in alto Quindi Anche sanificandolo Non succede niente Allora non Che fa? Ah figo Non so se devo Fare qualcosa da questa parte Con lui Fammi vedere Ho paura Che possa succedere qualcosa lì Con quel metallo Che sta scendendo Forse adesso è più potente Adesso fa la fiamma più alta Vediamo Questo era carino in casa Aspetta Ora Ti dovresti accendere Boia Bella la fornaccia di Archimede Ok Si è riattivato tutto Hai capito Archimede Guarda lì Ok Quello mi serve per passare Acce capite Cos'è questo? Oh Oh ciao Sto guardando la mazza ferrata Aspetta va là A parte che comunque abbiamo Ancora Quasi 12 13 mila anime Una spesina si potrebbe fare Ma va bene Ma lo dicevo per Intanto va fatto No 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 Amica mia Amica mia C'è capito La situazione Su Posso buttare qualcuno Nella lava Tipo Ah non avevamo la roba blu La magia Potrei recuperarla lì Aspetta Venga signorina Eccoci Cacchio M'ha preso? M'ha preso no Buona Eccoci qua Che schifo Poi tipo Mamma mia Fa senso il Anche il vedere di lato No vabbè Anche il vedere di lato Proprio Che c'è C'è la mezza faccia Che schifo Che senso Non che Sì Che schifo Ma che senso Pigal Ah siete voi Che avete Quelle cose lì Aspetta Allora la uso anch'io Via Venite qua Che cacchio è Un boccino d'oro Lancio Lancio delle Delle sfere infocate Amo di boccino Posso tiraglielo? No Ma avete perso i vestiti Voglio Si sono bruciati col fuoco Può capitare Posso? C'è qualcun altro? Iniziate sì Why do I hear boss music? No Ci siamo E Ah niente Torno di là Torno di là Quindi qua Riattiviamo questo Rifacciamo il percorsino E arriviamo nello studio Di Archimede Ho visto già Che lì ci sono Delle botole Tipo Che si apre Ne si chiudono Quindi Suppongo ci sia Da fare qualcosa là Quello è bloccato Ci penso io Mi porti di là Grazie Si è bloccato tutto? Che succede? Che succede? Vedi? Lì bisogna saltare Un Due Tre Vie Non c'è la roba Per rallentare il tempo Ma penso che vada bene Comunque Oh cacchio Ma voi non vi stufate mai? Chiedo In quanti volete apparire ancora? Quante volte? Prendi Prendi Che cambia molto eh Anzi Siamo molto prima Piuttosto che minarti così Ecco D Ed ecco anche a cosa serviva Questo pezzo qua Un Due Tre Quasi Devi dirmi tu Kratos 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 Io vorrei ucciderli quelli Niente Ciao ragazzi Che carini Mi aspetteranno lì Vero Per tutta la vita Bello quello 13.000 Vogliamo arrivare a 25 Raga Per quello Tempo di attacco aumentato Tempo di recupero diminuito Che sarebbe buono Il tempo di recupero diminuito Ah no Che tra l'altro No no Questo lo prendo Sì E quello Cioè Tempo di attacco aumentato Nel senso che Se evochiamo per attaccare Lo fa più volentieri Quindi subito Oh oh Va bene Sono cotto un attimo In tutto questo Perché noi stiamo facendo sta roba Porca vacca Non capisco Lì si va avanti Fammi vedere di qua A me A me Per favore Andate a giocare Con le Barbie Anche poi Voglio vedere una cosa Non li abbiamo presi Tutti gli artefatti Vero Maledetti Ne abbiamo saltato uno Tra il capitano della nave E lo scalpello Mo qua me ne mancano due Boh Dove stanno? Maledetti Ce l'avete fatta eh? Questo anche nel 3 Mi era successo Mi era successo Anche nel 3 Dimenticato la roba Dimmi Che succede? Non si passa di lì? In mezzo là? Guarda Questo è il luogo ideale Per mettere due mani Un po' più di due mani Guardali come si divertono Che ragazze carine Loro stanno lì a farsi i cacchi suoi I cacchi loro Si divertono Non fanno male a nessuno Più o meno Tranne a tutti Usa usa Connessione Non abbandonare Magari adesso Nel combattimento Ma si stanno stringendo Quelle Oh 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 Si stanno stringendo Le due fiamme sopra Raga Che culo Ehi sto bene Adesso credo che andrò a recuperare qualcosa Vita o magia Magia Assolutamente Siamo tornati a 11.000 Si si Arriviamo a 25 Tanto ghiaccio elettro Di spade Di lame Non Non le sto usando Poi magari sono Fortissime Non mi fare ricombattere Contro di quei ragazzotti Ti prego Dimmi che hai salvato Va bene Va bene che non Va bene che non mi hai preso la cassa Va benissimo L'importante era quei ragazzotti Gli nemici sono veramente ostici Comunque Veramente ostici Ci metti Un sacco di tempo A ucciderli Ok Ho visto che c'era un gancio Tipo là Mio Spalla No Basta Mi ha ricaricato già la vita lui Gentilissimo No basta Che palle Basta Hai te rotto Non capisco se sono io il problema Che sbaglio qualcosa Perché Ci metto veramente tanto a ucciderli Sarà le combo Non lo so Però è veramente un Un casino di tempo Per ucciderne uno Oh l'elefante Ciao Vabbè questi li uso Tanto c'è bella ricarica qua Quindi va bene Due elefanti Non manca più nessuno No Oh Te ne vedi già Pic 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 Kratos L'ho dovuto schivare nella vita reale anche Se no Non lo schivavo Dobbiamo realizzare quello Occhio Posso avere Grazie Vieni giù Vieni Credo ne sia arrivato un altro Si stava baggando Un elefante Dentro l'altro elefante Eh sì Ok Questo è un problema Questo è tutto un problema Devo anche grattarmi il naso No Fermi Parliamone Ci sono Questo come cacchio ho fatto a schivarlo Non lo so Puoi essere l'ho visto dopo Allora è un problema perché non abbiamo magia Un little big problema Te vieni qua un attimo che tanto Non ti serve la testa vero? Oh bravo No è morto Vabbè Può capitare No lo scudo Che palle Anzi Porca vacca Ma vado così Permesso Vi ammazzano così Direi di sì Sarà questa la tattica Per ucciderli Prima Poi è maperghiato E' perché io vorrei Questo in realtà Eh ma lo fanno anche loro E' come lo faccio io Anzi loro colpiscono proprio anche Aspetta Venga qua signore Vorrei Quella Quella Cosa di magia Se non mi dispiace Con quello lì potrei Ehm Non lo so Divertirmi Fare un qualcosa Uno indietro all'altro Facciamo così Ma va là Ma io ci provo anche Figurati Non posso neanche chiamare Frankie Oh sì che posso Bravo Proviamo Ti prego Grazie Siete finiti Oh ma sta picchiando ancora lui là Stava ancora picchiando Ci dà eh Io pensavo consumasse magia Invece no Invece no E' solo Il tempo di ricarica Che l'abbiamo anche Diminuito Andiamo qua Ok Dicevamo Questo è da risanare Ah credo Forse è da deteriorare Che sta succedendo No andava bene Non è la lanterna questa Però vero E' un braccio Ma non è che lo dobbiamo Rimontare noi Oh Sì è un braccio E là c'è la lanterna Ma perché voleva Nascondere la lanterna Che non ho capito Perché la voleva Le furie Non lo so Ci serve a qualcosa Perché c'è quello Ok Serve a qualcosa Quattordici Uuuuh Eeeh C'è Ma dimmelo Dimmelo che parte Super Mario Eh Che poi è scomodissimo Comunque Senza poter saltare È scomodissimo Senza poter saltare Come voglio Dico Ma c'è i bordi Oh No raga Non si Non Cioè È scomodissimo È fatto male Non da capo Però eh Ogni volta Non finiremo più Ve lo assicuro È veramente È veramente È veramente Tremendo Tremendo Cioè Ci mette Tre quarti d'ora A girare Io Io ci clicco Ma non va Era fatto meglio Su Super Mario Com'è possibile È impossibile Che Mario 64 Fosse fatto meglio Imbarazzante Voglio Oh Guarda 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 La prende la richissima Sì Fattibile Io spero Che sia corto E non E non Boh E se no C'è da piangere Basta Questo è il tentativo Finale Non vi preoccupate Ho capito I segreti Adesso So come funziona Tutto Forse è possibile Evitare di cadere Nella lava Magari riusciamo Anche a vivere Eccolo lì Certo Perché andalo Al contrario Giusto Ma va bene Così ragazzi Eccomi In piedi Salve Sì Tutto questo Per riattivare La cosa Abbiamo riattivato No niente Non abbiamo riattivato Un cacchio Il braccio Dovado D'Archimede Devo tornare D'Archimede Che giro Dobbiamo fare Ah no Dobbiamo riattivare Questa Ok Il meccanismo Che infatti Prima era bloccato Understandable Vuoi che non appaia 356 nemici qua Andate Ci hanno perduto C'è erbero anche Su Aspetta Posso tirarli via anche? Ah non muoiono però Cioè non li Non li rilancio Giù di sotto Perché mi hai detto Di fare quello Con il cerchio? Devo alimentare Le fiamme Ah c'è capito Allora Questo è Tutto corazzato Quindi mi sa Che va Tolta la corazza E poi Lo lanciamo Poi è dove è volato Mico tutto a posto Sì sì Dobbiamo lanciarli Nella fornacina Allora facciamo un attimo Così che li Li dobbiamo indebolire Tanto Questi piccoli No Ma che culo Ci hai finito dentro così Vai vai Tutti dentro Parti Parti fornace Che culo Raga Era rimbalzato dentro Un altro Da che ci sei quasi Bravissimo lui Che culo Fantastico 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 Facciamo che voi morite Tipo Che ormai Solo tu Vieni Ti è rimasto solo tu Vero si Temi dai qua La vita Sì Che non so Cosa c'è là dietro Tanto Abbiamo ancora Delle furie Da causare Quindi È abbastanza Probabile Così Maybe La capoccia Non ce l'ha Non l'ha fatta Oh no Ancora salire Manage Pensavo di essermela Svegnata con quelli Oh ci sono io Sono io Il tributo Voglio provare A mandarci lui Dentro Dite di no Purtroppo Per cadere Sopra di questo No vero Sni Riproviamoci un attimo Giusto per vedere Se riusciamo a far prima È un po' godo Ciao 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 Aspetta Vai cane Dimi i cani Che sono più facili Da 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 Cosare Li apprezzo Se volete darmene Vai vai Ti preoccupare No Dov'anno Occhio Vieni fuori da lì Amico Pericoloso Là dentro Quel cane è sponato Dalla fiamma Ma come Come posso non volerli bene Oh c'è un altro di quelli Può andare dentro qualcuno Ho sentito un cane Oh mi sa che morirà Bravi ragazzi Bravi Bravi Cacchia Mi fate veramente felice Occhio Ma Questo è successo Perché rimbalzavo E non l'era carico Scaricati Bu Un Due Tre Allora Ci andiamo a prendere Le nostre ricompensine 16k To Stai arrivare in là Adesso Non credo Se arriveranno 50 ancora Però Per fare Quei potenziamenti Lì Lì Perfetto 6 Dio 3 Ci vedo più Ah quello ancora sta andando Un'altra che arriva su Si ferma Bravo Archimede Ha messo anche lo stop Intelligente ragazzo Allora